Maggiore Gimichata, lei si interessa degli sbarchi e dei migranti che sono costanti e continui nella nostra città come un po' in tutto il Mezzogiorno d'Italia. Ieri uno sbarco con 83 persone, voi avete già arrestato lo scafista? Sì, nella mattinata di ieri, erano le ore circa le 5, 5.30, è stata avvistata dalla Capitaneria di Porto e ci è stata segnalata questa imborcazione a vela nella zona di Ciron Marina, in località Volvito. Un piccolo commoncino con a bordo due scafisti e tre migranti si è approcciato verso la battigia e a quel punto sono intervenuti delle pattuglie della compagnia carabiniere di Ciron Marina. Sono riusciti poco dopo a rintracciare uno degli scafisti di nazionalità ucraina che si era rifugiato in un casolare abbandonato nei pressi della spiaggia. L'altro scafista è riuscito a darsi alla fuga e le ricerche sono in corso. 83 sono stati i migranti che sono arrivati ieri? Sì, di nazionalità pakistana, hanno riferito di essere partiti da una località non precisata della Turchia e di aver navigato per circa sei giorni. Sono già al centro cara? Sì, dopo l'imbarcazione è stata scortata presso il porto di Crotone da parte delle imbarcazioni della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e là è avvenuto, ovviamente, si è avviato il protocollo sbarchi. Capitano Esposito, parliamo dei fatti di cronaca che riguardano questa nostra città e questa nostra provincia, ma dobbiamo parlare in particolar modo del ritrovamento di armi in una zona di Cutro? Sì, in una zona rurale di Cutro. Nella mattinata di lunedì 4 i militari della sezione operativa della compagnia Carabine di Crotone, unitamente a unità operative dello squadrone riportato cacciatore di Calabria, che forniscono il loro prezioso supporto molto spesso e su nostra richiesta, hanno operato in località Rosito del comune di Cutro presso un'azienda agricola di due fratelli, classe 64 e classe 58. All'esito di una approfondita perquisizione locale, i militari hanno rinvenuto all'interno della cabina di un trattore, in uso al più giovane dei due fratelli, una pistola con matricola brasa e numeroso munizionamento, quindi cartucce per varie armi. Inoltre, in un altro capannone, sempre nelle pertinenze di questa azienda agricola, in Italia hanno rinvenuto 4 ordigni rudimentali, tipo bombacarta, chiaramente la cui finalità è in corso di accertamento con le indagini dirette dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il PM e il dottor Festa. Quindi l'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di direttissime, all'esito della quale ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi. Dobbiamo parlare anche della signora che ha coltellato la mamma nella zona di Casabona? Sì, una vicenda che ha ovviamente turbato tutti noi, questa quarantenne, residente a Rocca di Neto, sempre nella giornata di lunedì, si è recata presso l'abitazione della madre, che non è la madre naturale, ma insomma è la moglie di suo padre, quindi una signora nata da un'altra relazione extraconiugale dell'uomo. Si è recata presso l'abitazione della ottantenne a Casabona e per futili motivi e per vecchi dissidi familiari ha colpito la signora all'arto inferiore destro con un coltello, ripetutamente. Fortunatamente dei vicini accorsi hanno chiesto subito il nostro intervento e i miliardi della stazione di Casabona hanno fortunatamente messo in sicurezza la zona e arrestato la signora che in questo momento è in carcere a Castrovillari. Purtroppo le condizioni dell'anziana non sono ancora buone, non è ancora fuori pericolo di vita ed è ricoverata a Catanzaro, in pronuncia riservata.